Questo è quanto rimane della parte di Pineta d'Annunziana data fuoco a Pescara due domeniche fa. Un paesaggio desolante. Il PD di Pescara ha deciso di scrivere una lettera aperta sul futuro della Pineta firma di Nicola Maial, segretario provinciale del Partito Democratico, e Tommaso Di Biase, architetto urbanista responsabile territorio, infrastrutture e città del PD. Con la telecamera di Galvano Coppa siamo sopra a via della bonifica a Pescara. Potete vedere i risultati dell'incendio che ha distrutto parte della riserva d'Annunziana a Pescara. Piange il cuore nel vedere questi alberi ridotti veramente in cenere. Qui abbiamo Saverio Gileno della segreteria provinciale del Partito Democratico che però dice che non bisogna piangersi addosso, ora bisogna operare tutti insieme. Facciamo un appello a tutte le forze politiche, di maggioranza, d'opposizione, alle associazioni, ai residenti per unirsi e non dividersi in discussioni ideologiche adesso perché la riserva è patrimonio di tutte e tutti. Noi vogliamo che tutta Pescara si unisca per un progetto di rigenerazione della riserva naturale. Noi con rigenerazione della pineta dell'Annunziana intendiamo la creazione di un comitato importante, rilevante di esperti che possa decidere assieme alla politica, assieme alla politica tutta unita, quale debba essere precisamente questo progetto. Tommaso Di Biase che è urbanista e fa anche parte della segreteria del PD. Io le chiedo, Gileno prima ha parlato di un progetto di rigenerazione, però per i progetti ci vogliono i soldi e questi soldi da dove arriveranno? Sicuramente attraverso una colletta pubblica che è stata lanciata peraltro dal sindaco Masci, ma anche dal senatore D'Alfonso e da altri che l'hanno condiviso. Ma poi ci sono anche dei progetti pubblici, dei soldi che possono essere recuperati, dei finanziamenti importanti che possono essere recuperati allo scopo della rigenerazione urbana. Ne dico soltanto due. Uno è quello relativo all'abbattimento dello svincolo di questo viadotto che arriva, della circonvallazione che arriva fino alla Pineta. Questo svincolo ne era prevista all'abbattimento perché si doveva costruire un nuovo stadio. Questo nuovo stadio non è più possibile perché questa è un'area totalmente bruciata e quindi non può essere costruita per altri 15 anni. Quindi questi soldi possono essere recuperati. Quindi sono 6 milioni e 800 mila euro già recuperati. Poi c'è il progetto di Via Pantini, cioè un progetto che alla luce dell'incendio si capisce che è impattante, controproducente, che potrebbe anche generare in futuro ulteriori incendi, inneschi eccetera, perché ci passerebbero 15 mila macchine al giorno. Quindi sono 1 milione e 200 mila euro, sono 8 milioni in tutto li abbiamo recuperati, più i soldi dei privati. Diciamo che possiamo mettere in campo un progetto di rigenerazione urbana ma anche di spostamento verso la collina della circonvallazione, cioè dell'ingresso della città da sud a sud di Pescara. Grazie. 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 Grazie.